ok ragazzi una volta dentro si stermina tutto quello che si muove a demon many demons oh god che i demoni mindflayer si stanno sterminando a vicenda i must connect the helm let my name be known potrei farlo fuori dannazione meglio far fuori il cinghiale mi sembra più pericoloso tra questo ok grazie mille Fuck you, you penis Worth examining My thumbs push my luck again Very well Need to act fast More imp di merda On my way Nothing important is ever easy These bills have seen everything I can't give up Onward No time left, I must reach the helm No time to waste It's okay, hurry, before they strike Hmm, I have an idiot feeling This thing is too strong We can't get it Any way of carrying the helm Is there any power that is in front of me? We have to focus Nothing a bit of control Sì, siamo scrued! ... ... ... ... Sì Non ho risorse, merda E a questi da dove arrivano? C'è disingaggiato Non mi abbassarà il turno Oww TOO MANY OF THEM Devo rushare ragazzi Perché se quello stronzo Se quello stronzo pezzo di merda Quello stronzo pezzo di merda Del demone uccide in tempo Il coso Noi siamo fottuti Dobbiamo rushare completamente la zona No Let's end this Got to press on Taste my fury Nice Hurry Before they strike Ok 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 Let's finish this Let's run away Let's run away Ok Ok Open off Open up Open up ! Tu vuoi morire? Morire! Ottimo lavoro, ragazzo! Perchèmere! Perchèmere! Pagherai con la vita bastardo Ok ce l'abbiamo fatta Un dragone Certo a il piano dove stiamo viaggiando deve essere veramente un fucked up incredibile oh what the fuck's going on here salve a fucking goblin yeah 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 what per quale miracolo mi sono salvato ok priorità numero uno levare il parassita nelle mie chiappe perché guarda 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 Oh. Sbagli che infatti, sei più o meno in tattica. Un miracolo, given tutto che hai avuto. Ma ci sarà tutto per nulla se non hai trovare il gioco in più. Il Tadpole è una sentenza morta, e il gioco è sticchia. Hai bisogno di un'acqua. Merda. ok devo trovare un modo per togliere sto cazzo di girino dalle mie chiappe wow acqua cazzo sto polpo sam è ancora acqua da segne di vita povero pescatore ehi sei vivo questa è una buona domanda effettivamente E' effettivamente Beh, allora Beh, mi servivano soldati Con la situazione onestamente Siamo meglio, eh Perché alla fine Eravamo letteralmente in una situazione di merda Intrappolati in una cazzo di nave di mindflayer Cioè Mai nella vita ci vorrei stare Ci sono i modi più creativi di morire La domanda è Che cazzo serve una mente oscura E una schivizzata Beh, ripuliamo la costa Intanto di tutte ste merda Sti morti Ok, abbiamo del cibo Beh, sì Una lettera E' un po' di tutto Di l'ultimo coro Cosa mi dice che Non ce l'ha fatta il tuo amato Quelli sono vivi Non gettiamoci in battaglia alla leggera Questa è un po' di livello Tra l'altro Ok E' un po' di livello Allora, vediamo Allora, vediamo un po' Piano slot in più Tiene capacità di incanellare l'energia divina Partendo con due effetti Ok Scaccerano morti E' un po' di livello Ok Ok, lei rimane concentrata Ok, lei rimane concentrata Ok 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 Stiamo prendendo l'Iropa Arnese a scaso Allora, facciamo una cosa, salviamo Non ho bisogno di attenzione adesso Allora, facciamo un po' Siamo pronti Siamo pronti Allora, facciamo un po' Allora, facciamo un po' Allora, facciamo un po' Allora Nice C'hai provato, bastardello Allora 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 Perfetto Perfetto Quattro Quattro tredici, questo invece è un quattro undici, peccato Quattro Quattro tredici 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 C'è un po' di più. What's this guy? Noi. Allora, potete vedere? Non un suono. Non se vuoi mantenere il tuo cuore amico. E tu, mantenete la distanza. Non c'è bisogno di essere messo. Ho bisogno di vivere. Stai la scuola, o ti mostrerò come messi le cose possono essere. Promete, promete, ma ho un altro negozio, sono freddo. Ora, ti vedo sul volo. Senti, sto per piantarti la mia spada su per il culo, bastardo. ... 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 Compassion Compassion You can't move, can't think Thinking is mercifully done for you It will be a joy to serve, to die for it and honor It's possessing your mind, forcing you to love it But then the feeling slips The creature's mind seems to focus elsewhere You try to break through, but its mind is impenetrable With a last surge of defiance, it slaps your efforts away The monster lies exhausted, defeated Its eyes, wet orange pearls, radiate malice Die, bitch Die, bitch It's not a sweet The monster lies in the sea The monster lies in the sea To order to destroy the sea And to get the sea The creature lies in the sea 5.2. La sua riuscita a farla? 6.5. La sua riuscita a farla? La sua riuscita a farlo? La sua riuscita a farlo? E' difficile? 2.4. La sua riuscita a farla mai credere. 3.5. 4.5. 4.5. fuoco fucking goblin che cazzo è sta merda ti approccio la sigilla sulla stella la magica glittura e sveglia eraticamente come funzionante sembra un po' pericoloso un po' pericoloso? qualcuno? questo è tutto! continui a prenderlo ii sono Gail di Waterdeep ma scusate in questo caso ? un po' pericoloso Se sei un organista mi servino al porti Questa è un'ottima domanda Questa è un'ottima domanda Con un'ottima domanda La scuola a questo glimbo è una cosa magica Mi sono arrivati a questo E trovato a me sul l'altra parte Come ti? Come ti avevi la scuola? Non ho un'idea! Certo. Ma anche così, ho l'inforzamento che la tua attività è ancora molto in jeopardy. Vanno sull'船, tu anche eravessi l'intervento di un'insertione abbastanza incontro nella regione oculari. Sì! Certo, c'è quello che parassimo? Questo...parasite? Certo che dopo un periodo di excruciata gestione, ciò che diventa in mente? Certo. Un processo che si tratta di cerimorfosi. E, mi dico, mi dico di, è di essere evitato! Non è un'attività di una scuola, c'è? Un'attività? Un'attività? Un'attività con la scuola? Certo. Vogliamo sapere di quanto riguarda le nostre condizioni di farvi di più di più di più. Pi più? Non penso di più, ma io mi spero di essere nella presenza dei pochi. Tu non è una di loro. E sembra che ci stiamo starvati per le risposte. Probabilmente ci saranno bisogno di un healer, e in pronto anche. C'è qualcosa di più che ci rendiamo una mano aiutante prima e troviamo un healer insieme? Molto bravo! Parasite shared è un parasite halvedo. C'è qualcosa di questo effetto. Oh, ma prima di pensi che sei arrivato a fare un viaggio con il più ill mannato di mangi, grazie per me fuori da quella stagione. È un atto di fortissima dignità, assurdo. Io ho la sensazione che alcune opportunità si presentaranno per me per tornare alla fine. Quale desiderio? Siamo su persone, globo cromatico, coltello di ghiaccio, casuta morbida. No. 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 Ecco. Yes. Fine. Cirma super civilians potrebbe essere utile come abilità sociale. Grazie a tutti. Cazzo, questo è pure utile per l'esplorazione. E' abbastanza la pena andare a trovare... You know guys, I can't see shit. E' abbastanza la pena andare a trovare... Looking ahead. E' abbastanza la pena.